Grave incidente stradale, quest'oggi intorno alle 14 a San Lorenzo di Lugo in via 8 Marso nei pressi della caserma del 112. L'incidente ha coinvolto due autovetture, una Ford e una Fiat 500 che si sono scontrate frontalmente. Due le donne, una del 69 e l'altra del 87 rimaste ferite nello schianto. La prima è stata trasportata in codice 3 a Cesena da Lelli Medica, mentre l'altra in codice 2 all'ospedale di Ravenna in ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con due ambulanze Lelli Medica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Grazie a tutti.